Berlinguerra ovviamente devo inserire perché io lo dico sempre Certo Non parlo qui Qualcosa la deve dire La foto è emblematica E sopra c'è Conte però Conte Grillo e sotto Berlinguerra Credo che alcune battaglie fondamentali Quanto è davanti a Berlinguerra Noi stiamo dimostrando coi fatti Li portate avanti Grazie